ciao a tutti oggi è il 12 gennaio 2021 sono passati tre giorni da quando sono rientrato in casa che avevo una temperatura all'interno della casa di 8 gradi 7 7 gradi ecco adesso vi faccio vedere la temperatura esterna di casa che la vediamo subito che sono due gradi ecco qua due gradi quasi 33 gradi sopra lo zero ecco e mi faccio vedere anche l'ora che sono l'una e mezza del pomeriggio ecco adesso andiamo su in camera e vi faccio vedere in tre giorni la temperatura che sono riuscito ad ottenere con i due termo ventilatori che ho le stufette che ho che erano quelle anche dell'anno scorso di due anni fa che riscaldo camera mia ecco eccoci in camera mia questi sono quelli che vi ho fatto vedere anche prima il termo ventilatore che ho acceso due ore fa no e di là vedete c'è l'altro l'altro termo ventilatore sempre a 750 watt no che è acceso e adesso vi faccio vedere il termometro la temperatura abbiamo una temperatura vediamo se si vede bene di 18.2 gradi sono le 13 e 35 e un'umidità del 35 per cento l'aria un po è un po secca ecco bene ecco questa è la temperatura una temperatura calda si sta bene ho dormito bene tranne il primo giorno che c'erano 14 gradi sono andato a letto vestito un po più pesante no e poi invece il giorno dopo c'erano già 18 e riesco a dormire bene più o meno come come l'anno scorso nonostante che quest'anno ci siano delle temperature più basse avete visto che si arriva sotto zero anche a meno 5 durante durante la notte comunque sta funzionando bene il riscaldamento sia da parte del dei termo ventilatori e sotto della pompa di calore vi ricordo che questo è possibile perché ho isolato tutta la casa in particolare la camera l'ho isolata molto bene con due centimetri di sughero un centimetro di pannello sb qua mentre qua ho messo un centimetro di pannello sb più otto centimetri di sughero e più un altro centimetro di pannelli usb che potete vedere comunque nei video giù in fondo ho messo due centimetri di sughero più un pannello di usb in tutto senza collanti il soffitto l'ho fatto con due millimetri di sughero compresso più i pannelli usb e qua invece solo ho voluto provare a mettere solo il sughero di 2 mm compresso poi pitturarlo poi anche il pavimento comunque l'ho isolato con il laminato da 7 mm e il sughero compresso da 2 mm ecco in questa maniera io ho ottenuto delle temperature non altissime però buone buonissime che si può dormire ed è caldo il tutto ad energia elettrica quindi senza usare caldaie a gas o altri combustibili fossili in maniera tale da avere zero emissioni perché ho anche il fotovoltaico e quindi vado con fonti rinnovabili e ho anche il gestore che è a fonti rinnovabili quindi io la mia parte la faccio sperando che la faccia anche il gestore e il tutto praticamente io sto passando da questo il quinto il sesto è dal 2015 quindi dovrebbe essere il sesto inverno che io faccio a zero emissioni e quindi si si sta bene anche in una casa che riscalda di energia elettrica va bene io vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti